Quando tu riesci a non avere più un ideale perché osservando la vita sembra una norma e pupazzata senza nesso, senza spiegazione mai. Quando tu non hai più un sentimento perché sei riuscito a non stimare a non curare più gli uomini e le cose e ti manca perciò l'abitudine che non trovi e l'occupazione che sdegni. Quando tu in una parola vivrai senza la vita penserai senza un pensiero sentirai senza cuore allora allora tu non saprai che fare sarai un viandante senza casa un uccello senza nido io io sono così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti